Il secondo aspetto è un po' più tecnico che è legato al fatto che l'articolo 34 bis di una riforma che noi abbiamo contestato fin dall'inizio prevede che sperimentalmente anche le questioni delle prestazioni sanitarie in linea sperimentale possano essere gestite direttamente in una convenzione con il privato, il che vuol dire che gran parte dei soldi che andremo a spendere nell'ambito della convenzione con il privato saranno proprio per il profitto del privato, cosa che il pubblico non ha in sé, quindi la riteniamo come una forma non etica di gestione del dolore, di gestione della salute e quindi la contestiamo. Sicuramente sfrutteremo il fatto che molti dei nostri portavoce nazionale dei parlamentari del Movimento 5 Stelle saranno presenti in Toscana per la campagna contro il referendum costituzionale, quindi sicuramente ci saranno molti cittadini che parteciperanno e sarà una grande occasione anche per raccogliere le firme per questo nuovo referendum in difesa della sanità pubblica.